Queste sono le formule a cui faremo riferimento, ma piuttosto che impararle a memoria, che avrebbe poco senso e renderebbe tutto noioso come un film polacco in bianco e nero, vedremo come usarle nella pratica e i ragionamenti da fare quando ci troviamo di fronte agli esercizi. Una precisazione, non utilizzeremo metodi di integrazione particolari, come integrazione per sostituzione o per parti, che si usano per esercizi più complessi, ma ci focalizzeremo soltanto su queste formule immediate. In descrizione trovate dei link ad alcuni miei video su argomenti che bisognerebbe conoscere per affrontare al meglio questa lezione, come le regole di derivazione, ma bando alle chiacchiere e vediamo gli esercizi pratici. Nel primo esercizio dobbiamo calcolare questo integrale indefinito. Per farlo si possono seguire due strade che si riconducono entrambe alle formule che abbiamo visto poco fa. La prima è piuttosto laboriosa e ha bisogno di ben quattro passaggi, un'infinità data la difficoltà dell'esercizio. Eccoli. Sono passaggi che sfruttano le proprietà delle potenze per scomporre la funzione esponenziale e mettere in luce l'integrale semplice di e elevato x, il cui risultato è e elevato x più c. La domanda che ci si può fare è che fine ha fatto quella e alla quarta fra penultimo e ultimo passaggio? Non è magicamente scomparsa, ma è andata ad accorparsi alla c. Dato che la c è una costante generica che rappresenta un qualsiasi numero, anche e alla quarta per c ha come risultato una costante, che possiamo scrivere con più semplicità soltanto c, senza appesantire la scrittura. Il secondo metodo sfrutta questo integrale immediato e risolve l'esercizio in un passaggio e mezzo. E mezzo perché prima di arrivare alla soluzione riscriveremo l'integrale di partenza in una forma leggermente diversa. Qua entra in gioco una tattica che è utilissima e che si può applicare a tantissimi integrali di diversi tipi, l'evidenziazione del fattore 1. Infatti, ciò che abbiamo scritto è pienamente lecito, perché l'1 è sempre presente come fattore in ogni espressione, visto che è l'elemento neutro della moltiplicazione, quindi non ne cambia il risultato. A questo punto ci basta analizzare ciò che abbiamo di fronte e notare che 1 è proprio la derivata della funzione ad esponente della e. Ricordiamo che la derivata di x, funzione identità, è 1 e la derivata di una qualunque costante è 0. Ci troviamo allora nel caso dell'integrale che abbiamo scritto in alto, ed è facile concludere che il risultato è e elevato x più 4 più c. Nel secondo esercizio l'integrale da risolvere è più complicato. Riscriviamolo e ragioniamo sul da farsi, pensando alle formule che conosciamo. L'esponente di e è troppo complesso perché si riesca a risolvere l'esercizio servendosi dell'integrale di una semplice funzione esponenziale. Quindi ci dobbiamo affidare a questa formula, quella dell'integrale di una funzione esponenziale composta. Pertanto, indicato con f di x l'esponente della e, deriviamolo per capire se l'espressione fra parentesi può essere ricondotta alla sua derivata. La derivata di 5x alla seconda più 2x, applicando la regola di derivazione di una potenza, è 10x più 2. Dopo un raccoglimento del 2 a fattore comune totale, otteniamo tra parentesi un'espressione identica a quella presente nell'integrale. Ci siamo quasi e ci darà di nuovo una mano il nostro amico 1, però sotto diversa forma. Vediamo come. Moltiplichiamo tutto per 2 e il 2 scriviamolo di fronte a 5x più 1. Chiaramente non possiamo alterare così dal nulla un integrale, quindi dobbiamo fare qualcosa per neutralizzare quest'operazione. Allora, dividiamo tutto per 2. Avendo moltiplicato e diviso per lo stesso numero, è come se avessimo moltiplicato tutto per 1, quindi non stiamo cambiando l'integrale di partenza. Adesso, riorganizziamo il tutto scrivendo un mezzo fuori dal segno di integrale e mantenendo il 2 all'interno dell'integrale stesso. È facile notare che ci siamo ricondotti all'integrale della formula, perché il termine 2 per 5x più 1 è proprio la derivata dell'esponente della e. Possiamo scrivere il risultato e poi fare le moltiplicazioni per togliere le parentesi. In questo prossimo esempio dobbiamo risolvere un integrale in cui, alla base della potenza, abbiamo un numero diverso da e, o meglio, ben due numeri diversi da e. Riscriviamo tutto e ragioniamo su quale sia la strada migliore da percorrere. Fra gli integrali che abbiamo presentato, ancora non è ben chiaro quale sia quello che ci permetterà di arrivare alla soluzione. Infatti, dobbiamo prima semplificare l'espressione, sporcandoci le mani con le proprietà delle potenze. Inutile dire che conoscere queste proprietà di base ci permetterà di risolvere esercizi di questo genere che, in caso contrario, ci sembrerebbero soltanto criptici geroglifici. Allora, nel primo passaggio scomponiamo il numeratore in prodotto di potenze con la stessa base e a denominatore evidenziamo con le parentesi una potenza di potenza. Svolgendo i calcoli otteniamo 5 elevato x per 25 fratto 4 elevato x. Adesso portiamo fuori dal segno di integrale la costante 25 e notiamo che sono rimaste nella frazione due potenze che hanno lo stesso esponente. Possiamo scrivere le basi sotto un unico esponente, come illustra questo passaggio. Siamo giunti alla fine perché ora è evidente che l'integrale è risolvibile servendosi di questa formula. Scriviamone allora la soluzione, ricordando che la base, a, è 5 quarti. Otteniamo questa espressione, particolarmente brutta a vedersi, che però possiamo abbellire un po' con qualche passaggio algebrico. Intanto scriviamo una frazione con a numeratore il prodotto di 25 e 5 quarti elevato x e serviamoci di questa proprietà dei logaritmi per scrivere il denominatore come differenza dei logaritmi di 5 e 4. Adesso possiamo spostare 5 quarti elevato x di fronte alla frazione, aggiungendo poi la costante arbitraria c. Di solito, in esercizi come questo, il risultato è un'espressione non proprio amichevole che si deve cercare di semplificare il più possibile. Vediamo il quarto esercizio. Come sempre, riscriviamo l'integrale e ragioniamo su quale, fra quelli che conosciamo, possiamo fare affidamento. Data la complessità dell'esponente, ci possiamo focalizzare su questo integrale. Per cercare di capire meglio come muoverci, scriviamo l'espressione di modo che assomigli il più possibile a quella della formula che abbiamo preso come riferimento. Abbiamo separato la frazione per mettere in evidenza il termine della potenza, la a elevato f di x della formula, con a, in questo caso, uguale a 7. Per capire se il secondo termine può essere f' di x, deriviamo l'esponente, la nostra f di x. La derivata di radice di x è 1 fratto 2 radice di x. Un attento confronto mette in luce che, perché le due espressioni siano uguali, ci manca un 2. Allora, sfruttando una tattica già vista in precedenza, moltiplichiamo e dividiamo per 2, senza cambiare il risultato dell'integrale, visto che in fin dei conti è come se stessimo moltiplicando per 1. Nel prossimo passaggio portiamo un 2 fuori dal segno di integrale e l'altro 2 accanto alla radice a denominatore della frazione. Ora possiamo notare come il termine frazionario sia proprio la derivata dell'esponente. Possiamo utilizzare la formula che abbiamo scritto in alto e scrivere direttamente il risultato. Facciamo le moltiplicazioni per togliere le parentesi e poi riordiniamo il tutto separando la frazione dalla funzione esponenziale. Nel quinto esercizio dobbiamo calcolare un integrale definito di una funzione esponenziale. Come difficoltà aggiuntiva abbiamo a che fare con la funzione goniometrica seno. Iniziamo la risoluzione notando che, data la complessità dell'esponente, dovremo ricondurci a questa formula. Quindi, il primo passo sarà verificare se seno di 2x può essere in qualche modo scritto in modo da essere la derivata di seno al quadrato di x. Deriviamo proprio seno al quadrato di x. Per farlo, utilizziamo la regola di derivazione della potenza di una funzione. Il risultato sarà 2senx cosenx, essendo cosenx la derivata di senx. Non è proprio ciò che volevamo, perché ciò che abbiamo ottenuto è piuttosto lontano dall'essere simile a seno di 2x. O forse no. La goniometria è strapiena di formule e ne possiamo utilizzare una che fa al caso nostro, la formula di duplicazione del seno. Questa ci dice che 2senx cosenx è uguale al seno di 2x. Allora, seno di 2x è proprio la derivata dell'esponente. Portiamo fuori il 4 dal segno di integrale e evidenziamo i termini in parallelo con la formula. Possiamo scrivere il risultato, ricordando che, dato che stiamo risolvendo un integrale definito, dobbiamo trovare un valore numerico e non una famiglia di funzioni. Il risultato sarà questo, dove f grande di x è la primitiva di f piccola di x. Ricordiamo che non dobbiamo scrivere la costante arbitraria c. Questa espressione è uguale alla differenza dei valori della funzione che abbiamo ottenuto calcolata agli estremi, come ci dice la formula in blu. Sostituiamo i valori e svolgiamo i calcoli. Il seno di π mezzi è 1, al quadrato sempre 1, il seno di 0 è 0. Completiamo questi semplici calcoli trovando il risultato finale dell'esercizio. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile, clicca mi piace, iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio!